Il 4 aprile giovedì, buongiorno e ben trovati dall'informazione del mattino di Telemolise. Con Daniele Ricciuto in regia vediamo gli argomenti di questa prima edizione del Tg. Il Consiglio regionale ha affidato alla seconda commissione presieduta da Michele Iorio il difficile compito di individuare soluzioni idonee a fronteggiare la grave crisi occupazionale. Da soli non possiamo farcela, serve un forte impegno del Governo nazionale, ha dichiarato Iorio. Intanto Banca Italia ha declassato il Mnolise da regione in transizione a regione meno sviluppata. Sentiamo in proposito Giovanni Minicozzi. Un dramma senza fine per migliaia di persone rimaste senza lavoro dopo la chiusura o il fallimento di aziende importanti che negli anni passati hanno garantito occupazione, sviluppo e crescita del prodotto interno lordo. La politica e l'istituzione regionale, dopo un lungo periodo di immobilismo, cercano soluzioni per tentare di fronteggiare la grave emergenza. A tal fine il Consiglio regionale, in seduta monotematica, ha delegato la seconda commissione, lavoro e attività produttive, ad affrontare il tema degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive per il lavoro. Il presidente della commissione, Michele Iorio, ha riunito tecnici e dirigenti per una ricognizione complessiva riferita agli ex lavoratori dello zuccherificio della GAM, dove sono stati sprecati oltre 500 mila euro in consulenze inutili, e della ITR. Abbiamo fatto un incontro proficuo dal punto di vista tecnico, perché le strutture ci hanno fornito tutti i dati, e la storia un po' degli ammortizzatori sociali in Molise. Il dato più preoccupante riguarda sicuramente l'ITR, e per certi versi, anche in queste ore, il problema si pone anche per la GAM, oltre alle altre aziende in difficoltà. Io credo che questo argomento deve essere al massimo dell'attenzione del governo regionale. Noi come commissione faremo una relazione precisa, cercheremo di dare delle indicazioni, ma l'interlocuzione con il governo in questo periodo deve essere forte e decisiva. Non è possibile assistere alla fine degli ammortizzatori sociali in un'area di crisi complessa, che non ha visto ancora creare nessun nuovo posto di lavoro, o quasi nessun posto di lavoro. Al momento però mancano progetti per le politiche attive per il lavoro, non si vedono nuove imprese, non si vedono nuove possibilità occupazionali. Ma qualcosa c'è, ma si muove con molto ritardo e devo dire, insomma, senza nessuna assicurazione di disponibilità di nuovi posti di lavoro. Le politiche attive possono alleviare il problema in questa fase, ma sicuramente non sono risolutive. All'attenzione ci deve essere comunque l'impegno a fare in modo che centinaia e centinaia di famiglie non restino senza reddito. Questa è una cosa che il Molise non può e non deve accettare, in nessun caso. L'ultima doccia fredda è arrivata sulla gamba con Amadori che sembra non intenzionato più ad investire. Speriamo di no, io mi auguro che invece ci ripensi. Credo che se non ci sarà questa soluzione il problema diventa ancora più difficile e direi insopportabile. Ecco perché credo che il tavolo nazionale dovrebbe, insieme alla regione, indicare una soluzione. A tutto c'è rimedio. Ritengo che il Molise abbia non solo il dovere di chiedere, ma anche il diritto di pretendere. Intanto, Banca Italia ha confermato che Molise e Sardegna sono state declassate da regioni in transizione a regioni meno sviluppate per effetto di una performance peggiore rispetto alla media europea, ovvero siamo tornati indietro di oltre dieci anni, ma i governanti vivono in un altro mondo e continuano a promettere di tutto di più. Il Molise che racconta la politica è un Molise che non c'è. A dirlo è il segretario regionale della Wiltux, Pasquale Guarracino. Ormai è passato del tempo dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale, ha continuato, e la realtà è quella delle vertenze risolte, del lavoro che non c'è, delle leggi regionali che, passerelle a parte, non vengono modificate. Sono ferme le trattative sulla legge regionale del turismo, su quella del commercio. Le attività commerciali continuano a chiudere e di nuova occupazione neppure l'ombra. Il settore dei servizi è in totale stasi. Chi ha perso il lavoro non ancora trova ricollocazione. Eppure, ha detto ancora Guarracino, alcuni consiglieri regionali di maggioranza parlano quotidianamente di azioni che si potrebbero fare per valorizzare e salvare il Molise, senza però che alle parole seguano i fatti. Tenuto conto che chi sta in maggioranza dovrebbe essere l'attuatore del cambiamento. Guarracino contesta in particolare l'assessore al lavoro, che a suo avviso non risponde a nessuna sollecitazione proveniente dalle parti sociali, né è di supporto in alcuna vertenza di politiche attive. Dunque, neppure l'ombra. Cambiamo argomento, si intitola Diversi ma uguali la manifestazione organizzata alla Scuola dell'Infanzia di Campomarino per condividere la giornata dedicata alle persone con sindrome di Down. Un evento riuscito e apprezzato, promosso dalla mamma e dalle maestre del piccolo Lorenzo Vizzarri. Ce ne parla Fabrizio Occhionero. L'inclusione come valore da promuovere e condividere nella società, a partire dalla scuola e dagli spazi comunitari, non solo parole ma esperienze che insegnano a vivere e a superare ogni pregiudizio. In occasione della giornata mondiale delle persone con sindrome di Down, a Campomarino si è svolto un evento indimenticabile all'insegna dell'accoglienza e dell'amore. È stato promosso dalla mamma di Lorenzo Vizzarri, tre anni e mezzo, insieme alle maestre della Scuola dell'Infanzia, che proprio quest'anno il bimbo ha iniziato a frequentare. Un giorno speciale per l'asilo Agazzi, mamma Stefania, insieme alle insegnanti Filomena De Maiori, Bussonia Pasquarelli e Laura Colabella, hanno intitolato questa festa diversi ma uguali, sorrisi e tanta allegria, con la partecipazione di due ospiti carichi di entusiasmo, Checco il clown e Mago Peppe, non ci hanno pensato due volte per presentare uno spettacolo di fantasia che ha coinvolto Lorenzo e tutti i bambini. Tra le iniziative previste in questa meravigliosa giornata, condivisa e sostenuta dal preside Teodoro Musacchio, ogni bambino ha indossato dei calzini spaiati, di colore differente, proprio a voler significare che anche ciò che apparentemente sembra diverso non lo è, perché tutti siamo diversi ma uguali e d'altronde hanno osservato gli organizzatori, siamo fatti diversi perché siamo poesia. Il piccolo Lorenzo è stato accorto con grande gioia da tutti i compagni, una grande emozione per lui, i suoi genitori, Carmine e Stefania, e tutta la scuola come un segnale di vera inclusione per la comunità di Campomarino, che nella giornata dedicata alle persone con sindrome di Down vale più di mille parole. Adesso parliamo di trasporti e in particolare di ferrovie. A Roma incontro tra Pietro Diamantini, direttore regionale Trenitalia, Campania Molise, e l'assessore regionale trasporti Vincenzo Niro. La direzione di Trenitalia ha sottolineato di aver intrapreso un'azione di svecchiamento dei treni sulla tratta Campobasso-Roma con Minuetto e Swing, che da giugno interesserà anche Campobasso-Isernia e Campobasso-Caserta, un intervento che, secondo i dati illustrati, ha comportato un miglioramento della soddisfazione degli utenti. È stata quindi illustrata la proposta di Trenitalia di aggiornamento contrattuale che prevede il rinnovo dei mezzi con l'utilizzo di convoi diesel elettrici e del cosiddetto treno POP. La regione ha richiesto di rimodulare tale proiezione, considerando che, in base al cronoprogramma delle attività stabilito con RFI, il processo di elettrificazione giungerà a compimento entro maggio 2023. Bene, con questa notizia ci fermiamo. Adesso uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani locali e dei nazionali. Iniziamo con il giornale del Molise.it. In apertura la vicenda GAM. Amadori ci ripensa e ritira il suo progetto. Regione immobile è stato detto, buio intanto sulla filiera avicola. L'articolo è a firma di Giovanni Minicozzi. La cronaca, maltrattamenti nella scuola dell'infanzia di Venafro. La procura chiude le indagini. Ci spostiamo di poco, andiamo a macchia di Sernia. Minacce alla ex compagna 41enne in manette per stalking. Adesso a Campobasso, siringhe e spazzatura. La città sotto attacco di tossici e barbari. Vediamo anche le altre notizie. Vedete, ci sono diversi dichiami. Andiamo nella sezione editoriali, idee ed opinioni. Vi segnalo questo articolo. Firma della nostra direttrice. Manuela Petescia. Autismo, lettera di una madre. Alcuni figli si amano di più. Dunque, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, che è caduta il 2 aprile, abbiamo raccolto la testimonianza di una madre, struggente e concreta insieme. E per questo, di grandissimo valore in un momento storico il nostro, in cui gli studi sullo spettro autistico ancora non inquadrano con esattezza scientifica questa forma di isolamento in cui può restare imprigionato un bambino. A scorrere poi c'è proprio questa lettera. I figli si amano. Ripeto, una lettera che invitiamo a leggere. Adesso ci spostiamo su primo piano. In apertura, avvertenza Amadori. Toma tiene aperto il tavolo. Il presidente invita il gruppo a riconsiderare la decisione di non realizzare il macello e ribadisce il sostegno di Palazzo Vitale. Anche il ministro Di Maio ha scritto all'azienda Vicola si accende la speranza per la proroga della cassa integrazione. Cauto ottimismo dunque del governatore. Abbiamo salvato almeno una prospettiva di rilancio, ha detto. Attesa intanto la risposta da Cesena. A centropagina raggiunta l'intesa tra governo e regioni sui tagli ai vitalizi degli ex consiglieri. Ora è legge d'accordo in conferenza. Le altre notizie. Si parla di ambiente, di inquinamento. Miracolo, messo tra virgolette da primo piano, a Venafro. A marzo sparisce il PM10. Solo qualche lieve sforamento invece del PM2.5. Da Isernia siamo a Palazzo San Francesco. Dall'Olio in Giunta il gruppo di Baggio entra in maggioranza. Ci spostiamo a Campobasso, avete visto anche sul giornale Molise. Centro storico invaso dai rifiuti. Residenti incivili o servizio scadente? È quello che si chiede primo piano. In basso torniamo a parlare di politica. Iorio a cena con il commissario Giustini. Il commissario alla sanità si dice per parlare di sanità. Un titolo riguarda la polizia stradale. In azione raffiche di multe per guida pericolosa. I morti sulle strade, dicono la postrada, non frenano la follia. Nella rubrica Il Punto, un articolo a firma di Vincenzo Musacchio. Regionali, la debacle del Movimento 5 Stelle. Andiamo a fondo pagina dove c'è lo sport, il calcio, la ricetta di Meco Monaco. Un 4-3-3 equilibrato per l'Agnone. Domenica, giornata granata per l'arrivo del Campobasso. Una bella notizia riguardo il rugby. Battipaglia non ha i requisiti. Gli Ammers festeggiano la C1. E ancora, il campionato universitario. Cus Molise, 10 reti al Tor Vergata. E qualificazione alle finali. Siamo adesso sul quotidiano, che dedica spazio dell'apertura alla questione dei medici pensionati. In corsia, dubbi dei sindacati e dell'ordine dei medici. Dunque, Boccardo della Wille dice definire tempi e modi. No a chi ha usufruito della rottamazione e a chi esercita da privato. Intanto, l'ordine dei medici ha scritto a Giustini. Ieri, summit tra il commissario e la triplice. Dunque, Cigelle, Cisle e Wille. Di spalla, GAM, nuovo incontro a Roma. Mazzuto, l'assessore dice spiazzati da Amadori. Il parlamentare Federico intanto chiede invece maggiore decisione dai lavoratori. Le altre notizie amministrative a Campobasso. Nel centrodestra in vantaggio Corrado Di Nilo, gradito a gran parte della coalizione. Spazio anche all'economia, fondi di coesione. Banca Italia conferma il declassamento del Molise. Si torna nell'ex obiettivo 1. Per la politica, intesa per il taglio dei vitalizi ai consiglieri regionali. Il ministro Fraccaro, accordo storico. Dunque, parla di un accordo storico. La cronaca da Macchia di Sernia, perseguita e minaccia la ex che già aveva picchiato in passato. Ha arrestato un 41enne. Un titolo riguarda il governatore Toma. Non chiediamo autonomia ma un piano di rilancio per il Sud. La questione del regionalismo differenziato. Arriva dunque la proposta del Molise. In alto lo sport Campobasso al Civitelle di Agnone. Si punta al ritorno alla vittoria in trasferta. Tifosi pronti a mobilitarsi. E allora andiamo a vedere in casa Agnone che accade. Meco Monaco ci ripensa. Con lui, Brandoni e Di Pasqua. Poi dice fare di più punti possibile. Infine, rugby. Gli Ammers possono festeggiare ufficiale l'accesso dei Rosso Blu alla Serie C1. Torniamo sul web con Futuro Molise. In primo piano questo titolo. Siamo all'Isernia. Linda Dall'Olio nominata assessore dal sindaco D'Apollonio. Poi alcune notizie. Questa che riguarda la gamma. Vuoi vedere che alla fine la colpa è dei lavoratori. Roba da matti scrive Futuro Molise. Che si occupa anche di sanità privata. stato di agitazione per i lavoratori del Molise per il mancato rinnovo del contratto scaduto da 12 anni. Un articolo riguarda i controlli della Polizia Stradale di Campobasso. Riscontrate ben 190 infrazioni al codice della strada. C'è la sezione notizie di attualità e anche quella di una sezione politica. Si parla dei lavori della prima commissione al Consiglio regionale che ha iniziato l'esame della manovra di bilancio 2019. Ci spostiamo adesso sui quotidiani nazionali. Iniziamo con il Corriere della Sera. Questo è il titolo di apertura che troveremo. Questa notizia sono quasi tutti gli altri quotidiani nazionali. Banche accordo sui rimborsi. Oggi la norma per i risparmiatori. No alla castrazione chimica. Tanto Di Maio preoccupa la deriva a destra della Lega. Sul caso Tria Conte esclude dimissioni. Salvini chi lavora bene non ha timori ma è tensione. Altra notizia. Siamo di spalla. Viaggio nel quartiere particolare. Siamo a Roma. I nomadi se ne vanno. Rimane la protesta. Questa notizia la vedremo in maniera più analitica su altri quotidiani. Siamo su Repubblica. Dunque ecco qui c'è una doppia apertura. Il nostro odio metropolitano. Siamo a Roma. Bombe carta, saluti fascisti e insulti. Dopo la vergogna del pane cacciate da Torre Maura le famiglie Roma del centro d'accoglienza. Viaggio nel quartiere delle troppe emergenze. Noi è stato detto ultimi degli ultimi. La politica sulla destra. Tria non molla. Resa dei conti dopo le europee. E scontro frontale con Di Maio. Chiudiamo anche la Repubblica. Dare uno sguardo al fatto. Cinque stelle. Ecco la dichiarazione di guerra alla Lega in dodici punti. Si va verso le europee. Manuale pentastrellato per prendere le distanze dal carroccio. In alto vince Conte. Tria cede. Ok. Rimborsi ai truffati. Manca comunque l'accordo della Commissione europea. Dal fatto avvenire nodi anche di famiglia. Vediamo questo titolo. Di Maio che scrive al quotidiano della CEI e dice nuovo sistema di assegni, sostegno alla francese e un fisco progressivo. Conte intanto commissariatria sulle banche. Si tratta sui rimborsi ai truffati. E oggi il decreto crescita. Quindi la maggioranza si spacca, giunge avvenire, pure sulla castrazione chimica. Il Movimento 5 Stelle vota no al progetto leghista. Dice ci sono troppe derive di ultradestra. Da avvenire adesso al manifesto, crescita miracolosa, chiaramente un po' ironico il manifesto. La crescita solo per decreto approda oggi in Consiglio dei Ministri con sgravi fiscali alle imprese e pacchetti di mini rottamazioni. Sul tavolo anche rimborsi ai truffati delle banche. Ma lo scontro tra i 5 Stelle e Tria non si placa. Conte, i ministri devono stare tranquilli. Intanto in alto c'è quest'altra notizia. La CIA salva 64 migranti. Salvini dice nave tedesca andate ad Hamburgo. Chiudiamo il manifesto per passare al mattino di Napoli. Anche qui si apre con la questione delle banche. Andiamo invece a centropagina. Ferrovie, l'ombra dei Casalesi, regali e viaggi per gli appalti. L'inchiesta della DDA di Napoli. Nel mirino 10 opere. Indagati tre dirigenti di rete ferroviaria italiana. Il padrino è il del figlio di Sandokan. In basso quest'altra notizia. Da Napoli costretta a dormire in strada per evitare le botte del marito. Adesso uno sguardo al messaggero. Periferia contro raggi. Basta Roma. Rivolta dunque a Torre Maura. Ancora tensioni trasferiti 18 dei 77 nomadi. Si indaga per odio raziale. Tanto Salvini bacchetta la sindaca e dice metodo sbagliato. L'ira del Campidoglio si lurata la dirigente. Proseguiamo con il tempo. Tria beffa Salvini, Di Maio e Conte. Il titolare dell'economia dopo aver promosso la collaboratrice che gli contestavano. Mette tutti nel sacco sul decreto rimborsi ai risparmiatori. I tre costretti a subire il diktat. Uno sguardo adesso al sole 24 ore. Class action. Si cambia. Rischio, ricorsi e costi. Critiche dalle imprese. Se vediamo di capire, dunque sì, definitivo la nuova legge. Aumentano i soggetti che possono chiedere il rimborso. Estesi, ambito di applicazione e tempi di adesione. Spazio per un boom dei contenziosi, scrive il quotidiano di Confintusi. Adesso la stampa Di Maio. Offerta a Salvini per il dopo Tria. L'economia, dunque il digastero dell'economia, alla Lega. Il grillino pronto a concedere il ministero agli alleati se vinceranno le europee. Al Consiglio dei Ministri due ipotesi per i rimborsi e truffati delle banche. Ma comunque non c'è l'intesa. Adesso uno sguardo alla verità. Un'altra donna mette nei guai Tria. Mentre si moltiplicano i potenziali casi di conflitti di interessi per la consigliera Brugno, si scopre che il titolare dell'economia ha assunto anche una portavoce pagata dall'azienda petrolifera della Moratti. Via 20 settembre, giunge ancora la verità, cede i suoi rimborsi agli sbancati. A centro pagina, l'odio razziale è solo quello dei bianchi. A Torino, giustificazioni per il killer africano. A Roma, scatta l'accusa, la borgata, anche la borgata che non vuole i Rom. Il secolo d'Italia, sempre nel mirino, forze dell'ordine, di nuovo sotto attacco della sinistra per un'iniziativa proposta da Fratoianni che riguarda l'identificazione dei poliziotti. In basso, reddito di cittadinanza, boom di Rom e stranieri, scrive il quotidiano diretto da Francesco Storace. Adesso la gazzetta dello sport perché è tornato Icardi, meglio Icardi che mai titola il quotidiano sportivo. L'Inter con Maurito vince a Genova 4-0. Il gol su rigore è l'assist per Perisic dopo 53 giorni di assenza. Doppietta di Gagliardini, Spalletti dunque respira ed è a più 4 su Gattuso. Intanto in alto leggiamo Matchball, Juve, Scudetto record, domenica se vince la Juve e il Napoli cade ancora. E tutti stanno con Ken, il mondo lo abbraccia e Bonucci intanto finisce nel mirino. Tutto questo dopo i bui razzisti di martedì sera a Cagliari. Leo sotto accusa perché ha dato metà della colpa a Moise, Moise e Ken. Paquetà, siamo in casa Milan, fuori un mese ma è sollievo per i rossoneri che spallata alla Lazio. Intanto riecco anche Belotti, due super gol e il Toro risale ad altezza da Europa. C'è spazio anche per Federica. La Divina continua a stupire, comunque si parla di nuoto, farà l'ottavo mondiale dei suoi 200. Bene, con questa notizia terminiamo anche oggi il primo appuntamento con la nostra informazione. Grazie, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo alle 14 la seconda edizione del Tg. Arrivederci.